Ci siamo, siamo a un momento importante della serata, al momento che da quattro anni accompagna il nostro spettacolo di fine anno e che ci fa fermare un attimo, ci fa ricordare ed emozionare. Il premio Memorial Domenica Cattivelli viene dato ogni anno al tecnico Fronfullino che più ricorda alcune delle caratteristiche di Domenica, una donna che ha dedicato gran parte della sua vita al nostro sport e a noi. È con noi da tanto tempo, da tanti anni con noi è stata ginnasta, istruttrice, educatrice, competenza, professionalità, voglia continua di far imparare, in palestra fa lavorare duro e dopo la lezione si servirebbe ore a parlare con i suoi atleti. Come Domenica una cosa o la fa bene o non la fa e riesce a farne davvero tante insieme. Come Domenica trascina e fidelizza, ha saputo creare il più bel gruppo e il più bello dei nostri corsi. Chiamo Sara Marini a ritirare il premio e Sara Bonizioni la fine domenica con il segnale. Il premio e la scelta della commissione è una creazione artistica di Franchina Tresoglio. Grazie a tutti i miei amici.